Andiamo a Berlino per la finale che sarà dunque tra Spagna e Inghilterra e che cosa ne sarà di questo europeo? Sono molto curioso di leggere anche i vostri commenti, a qualcuno rispondo, ad altri la maggior parte delle volte no, ma scrivete pure che cosa vi ha impressionato di più di questo europeo. A me, devo dire, sono pronto a far discutere, hanno impressionato due o tre cose importanti, una riguarda Mbappé, un'altra riguarda Southgate e gli altri allenatori e la prima di cui vi voglio parlare è la riscoperta del fantasista, dell'ala, del giocatore che indipendentemente dalla posizione in campo punta l'uomo. Guardate che il calcio sta cambiando, anzi forse è cambiato, in Italia il primo è stato Gasperini, per cui si ritrova nel momento in cui tutti parlano di costruzione dal basso, di pressing alto, di calcio dominante o altre cose del genere, si va a riscoprire il giocatore che nella sua unicità è capace di puntare l'avversario, saltarlo, creare quella che una volta si chiamava, adesso non se ne parla più, superiorità numerica. È quello che si è visto con la Germania che ha offerto buonissime prestazioni grazie soprattutto a Musiala e a Birza. Tra l'altro, fateci caso, una volta si diceva di fantasisti e la squadra ne può reggere uno, no, no, adesso ci sono due fantasisti più una punta che non è più il centravanti vecchia maniera al quale era affidato qualsiasi conclusione e tutte le speranze di segnare gol. Non cambio discorso, però del centravanti ne parlo dopo, però guardate che l'esempio che è arrivato perfino dalla Georgia, cioè Kvara Schelia è l'esempio, ha giocato da seconda punta, da fantasista praticamente, da atletico fantasista, è un giocatore che punta l'uomo e va. Ma qui non, invece, e qui mi vengono in mente anche le cose dei ragazzini, qui si pensa sempre ai passaggi, due tocchi, lo stesso palla, la palla che gira, torna indietro, torna indietro, torna indietro, ogni tanto c'è un imbucato. All'Italia è mancato anche questo, l'intraprendenza di giocatori che puntano l'uomo, lo saltano, poteva essere chiesa, solo che chiesa bene da tutto un discorso a parte che probabilmente verrà affrontato quando il giocatore adesso fra poco si sposa, quindi prima ci sarà il matrimonio per conto suo e poi probabilmente il divorzio dalla Juventus. Anche qui discorso a parte, fantasisti, gente che punta l'uomo, la unicità della Spagna è nel trio di centrocampo che è meraviglioso, sublime, ma soprattutto nei due ragazzini, Nico Williams a sinistra e la mini Amal sulla destra che quando ti puntano ti fanno male, creano la superiorità, scartano, dribblano, come si diceva una volta. Prendete anche, per esempio è un giocatore modernissimo che punta, Xavi Simons dell'Olanda, che è stata la sorpresa, la sorpresa sì, di questo europeo perché la nazionale dolandese ruotava tutta praticamente attorno a lui, bene anche Reinders, sono curioso di rivederlo con il Milan, con l'autorevolezza e la fiducia che ha acquisito da questo europeo. L'Inghilterra è un'Inghilterra che naturalmente va con Foden, va a puntare con Bellingham, va a un giocatore meraviglioso di cui io sono follemente innamorato, che è Saka, quello che ci regalò l'Europeo tre anni fa sbagliando l'ultimo rigore con la donna Ruma. Parliamoci anche qui con grande sincerità, quanti allenatori moderni, il gioco eccetera eccetera, avrebbero messo in squadra assieme Foden e Saka sulla stessa direttiva? Il discorso su Southgate va affrontato senza preconcetti, è chiaro che le prime partite l'Inghilterra non ha giocato assolutamente bene, è altrettanto chiaro che l'Inghilterra è stata salvata da Bellingham quando era sul cornicione, proprio stava per crollare e precipitare. Sì, è tutto chiaro, ma tecnicamente però l'Inghilterra è la squadra che ha le migliori individualità, nel complesso ci sono 7-8 giocatori dell'Inghilterra che giocherebbero titolari in qualsiasi altra nazionale, ripeto 7-8 giocatori dell'Inghilterra, quindi è altrettanto normale che questa squadra vada fino in fondo anche se Southgate sembra un allenatore capitato lì per caso. Del resto si dicevano queste cose anche su Deschamps all'inizio della sua avventura nella Francia, del resto dicono queste cose quelli che poi si rompiano il petto e dicono il calcio evviva, 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 con i soliti noti tipo Bielsa, ma qui è un altro discorso, un altro continente, restiamo comunque, resto comunque all'europeo anche per non fare confusione e qui vi lancio quella che in apparenza è una provocazione, in realtà è un dubbio che ho e ci tengo a condividere con voi, ma secondo voi Mbappé è più forte adesso o quando aveva 18, 19, 20 anni? Secondo voi Mbappé è nella fase, ha iniziato la fase declinante della sua carriera? A me questo dubbio è venuto. Ora non voglio esagerare e dire perfino, tirar fuori perfino il paragone con Owen, i più grandicelli se lo ricordano, Owen è un giocatore fantastico, tra l'altro di quelli che puntava l'uomo e lo saltava, quando lasciò l'Inghilterra per andare al Real Madrid, quando lasciò il Liverpool per andare al Real Madrid, che successe? Che si trovò in una squadra che era già piena di stelle, di estrellas, anzi galatticos come venivano chiamati, e lì piano piano si affievolì, ma il processo di calo con Owen era già iniziato e qualche segnale sensibile l'aveva già dato prima. Ecco, mi sembra che Mbappé abbia dato qualche segnale di questo tipo. Quando l'ha dato? A partire dal mondiale, dallo shock della finale mondiale in cui segnò tre golle e aveva tenuto in piedi soltanto l'Argentina, ha avuto un finale di stagione con il Paris Saint Germain, appunto l'anno del mondiale normale, diciamo così, poi un'altra stagione con il Paris Saint Germain, quella appena concluso, anche qui normale, per il suo standard, normale, e poi adesso questo europeo francamente sconcertante. Ora, le spiegazioni quali sono? Quella più banale, la spiegazione della maschera, dice se si è fatto male al naso, diceva la maschera, guardate, lasciate perdere, perché Kylian Mbappé ha giocato male senza maschera, con la maschera, con la mascherina quella di Zorro, quella più leggera, e l'ultima partita anche con la maschera. Quindi la maschera non c'entra nulla, anche se in qualche modo ti condiziona, perché è chiaro, giochi con una protezione, che poi in alcuni giocatori diventa invece una compagna di viaggio, di un amuleto, tipo Ozyman per lo scudetto del Napoli, ma nella maggior parte i giocatori dà fastidio. Quindi la maschera però non c'entra nulla. C'entra la condizione atletica? Forse sì, c'è un po' questa storia comunque che al Paris Saint Germain si allenano poco, poi con Luis Enrique si sono allenati di più, poi io vedo la condizione atletica e la preparazione, vedo Fabian Ruiz gioca le migliori partite della carriera, arrivano tutti e due dagli allenamenti del Paris Saint Germain, quindi probabilmente non sarà questo. C'entra che proprio fisicamente ha messo su quei pochi etti in più, magari un chilo in più di muscoli e di potenze, ha perso l'agilità che aveva negli anni prime, diciamo così. Io ho quell'impressione lì. O forse la testa? Perché comunque qui tutti pensano che sia una cosa normale, ma Mbappé ha pilotato in prima persona il trasferimento del secolo con polemiche, tensioni, Parigi da lasciare, Madrid da raggiungere, cifre mostruose di ingaggio, centinaia e centinaia di milioni e non si può non pensare che comunque non incida anche sulla testa quando vai in campo, altrimenti perché parliamo di l'aspetto psicologico? E' questo l'aspetto psicologico. Ecco, Mbappé, secondo me, da quando ha iniziato a trattare concretamente e di fatto quasi in prima persona il trasferimento al Real Madrid, ha perso qualcosina, la leggerezza che aveva, la sfrontatezza che aveva, la potenza e la prepotenza che riusciva a imprimere a qualsiasi sua giocata. La ritroverà a Madrid? Per me no, per me no. Ha una cosa, evito di dirla perché è stata naturalmente strumentalizzata, personalmente sono da cittadino diciamo europeo, sono comunque dalla parte di Mbappé che ha espresso una posizione politica che personalmente mi è sembrata appropriata al momento della Francia e della sua situazione, ma credo che anche il fatto di essere punto di riferimento della Francia sul campo, punto di riferimento sul mercato internazionale per quelle cifre mostruose e punto di riferimento anche in un momento politico così, cioè bene non gli abbia fatto. Perché stiamo parlando comunque di un ragazzo di 26 anni, sottoposto a pressioni che erano dell'europeo, la nazionale, il trasferimento al Madrid e anche le pressioni politiche, anzi quando prende il telefonino gli esplode, Mbappé il telefonino. E non si può pensare di dividere comunque perché tanto sei un professionista, no, secondo me il ragazzo tra virgolette Mbappé è rimasto molto contagiato da tutto quello che anche lui si è creato attorno. Detto questo, io ho l'impressione che non sia la parabola di Michael Owen, pallone d'oro, Real Madrid e poi piano piano finisce per diventare un giocatore normale. Però comunque, questa è la mia sensazione, a molti sembra una provocazione, Mbappé non è più quello che era fino a un paio d'anni fa. Eh? Voi che ne pensate? Me lo dite nei commenti? Vi scrivete? Fatemi sapere.